lunedì 30 aprile san pio quinto e il cento ventesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 245 al termine il sole sorge alle 6 e 2 minuti e tramonta le 20 e 19 la luna si leva alle 20 e 47 tramonta le 6 e 37 durante la mattina si sente suonare dal campanile di san marco la campana del maleficio chiuse le porte del palazzo ducale fra le due colonne rosse della loggia verso la piazzetta compare un uomo vestito di nero che dopo aver pronunciato poche parole viene appeso dal carnefice alle forche rimanendovi fino all'ora di nona si tratta del patrizio girolamo tron traditore della rocca di lepanto le previsioni per domani sereno o al poco più nuvoloso per nuvolosità cumuliforme specie a ridosso dei rilievi durante le ore centrali temperature minime in ulteriore lieve calo massime stazionarie in pianura in aumento in montagna brezze sulla costa e di Grazie a tutti.